Telespettatrici, telespettatori di Rossini TV, benvenuti, benvenuti questa sera con noi. Abbiamo in studio un ospite che è molto gradito perché tratteremo con lui dei temi importantissimi per la vita di tutti noi, Roberto Rossini, buonasera. Buonasera. Roberto Rossini è segretario generale della CGL della provincia di Pesaro Urbino, riveste questa carica dal 2018, quindi sono sei anni che è appunto il segretario e quindi si può dire la guida sindacale per quello che riguarda la CGL della nostra provincia, guida sindacale che magari detto così potrebbe sembrare una definizione un po' antica, ma non lo è. Perché? Perché il termine sindacato in realtà ci fa venire in mente magari un qualcosa che a prima vista potrebbe essere appartenere appunto chissà a qual'epoca, invece così non è perché il sindacato è fondamentale in uno stato civile come l'Italia, in uno stato di diritto come l'Italia per garantire chi lavora. Ho detto bene? Benissimo. Vorrei ricordare che la CGL, il nostro allora segretario Giuseppe Di Vittorio è stato membro della Costituente. Il sindacato è stato in questo paese un soggetto che appunto ha reso possibile la Costituzione e anche la Repubblica democratica che stiamo vivendo dal dopoguerra ad oggi. È una realtà viva, la CGL nella nostra provincia conta 47 mila iscritti in una provincia che ha 350 mila abitanti, quindi non siamo un soggetto come dire ancillare rispetto... Praticamente uno su sette. Uno su sette della nostra provincia. Senza considerare poi tutti i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati non iscritte, perché noi siamo comunque un sindacato che ha nella sua natura, la sua natura di movimento, dei lavoratori e dei pensionati, anche quindi i non iscritti che vengono e frequentano i nostri uffici, sia per ragioni di tutela individuale, sia per ragioni di problematiche legate al lavoro o alla vita. Pensate quindi quanto è importante questo concetto, il concetto di tutela, di lavoro, di diritti. Quindi sindacato è una parola molto, molto ristretta, allo stesso tempo molto ampia, che davvero dentro di sé contempera tantissime accezioni. Noi questa sera abbiamo con noi Roberto Rossini per un motivo preciso, però ci piace fare un discorso più ampio e ve ne renderete conto nel corso della nostra, così, nella nostra discussione, se vogliamo dire, più che discussione, del nostro approfondimento. Parleremo dei quattro referendum sul lavoro, che sono stati proprio richiesti dalla CGL. Ci racconti un pochino di cosa si tratta per inquadrare proprio il tema ai nostri ascoltatori. Sì, diciamo che queste sono frutto di una decisione che la nostra organizzazione ha assunto ormai qualche mese fa, dopo un'ampia, importante e anche, come posso dire, molto approfondita discussione interna, perché è chiaro che un'organizzazione sindacale non ha nella sua natura quello di andare in qualche modo a raccogliere le firme per presentare referendum, quesiti referendari appunto che, come sapete, in Italia si possono presentare solo referendum abrogativi di leggi esistenti. Ma siccome l'analisi, secondo noi, rispetto al momento storico che viviamo, è un'analisi estremamente preoccupante rispetto proprio al panorama generale del Paese, alla condizione economica e sociale, al governo che in questi anni non ha voluto in qualche modo prendere atto anche di una condizione di difficoltà importante di grandi fasce del Paese, con una narrazione invece che sta andando avanti, anche, come posso dire, molto spinta, in qualche modo del fatto che il Paese dovrebbe sembrare un Paese che è in forte ripresa, che in realtà non è così. Purtroppo anche la fase post-Covid rapportata alla condizione e alla situazione internazionale ci danno invece segnali estremamente preoccupanti nel mondo del lavoro e nel mondo dell'economia. Noi abbiamo dovuto in qualche modo aggiungere a quelli che sono gli strumenti tipici del sindacato, che sono la contrattazione, che sono le mobilitazioni, gli scioperi, le manifestazioni, cioè anche, come posso dire, strumenti che in qualche modo servono a denunciare la situazione concreta e reale delle persone che rappresentiamo. Abbiamo dovuto aggiungere anche questo elemento straordinario perché abbiamo bisogno di dare una risposta o comunque di far sì che le persone, i cittadini di questo Paese, prendano sulle loro spalle la possibilità di poter decidere rispetto dei temi sul lavoro, che sono temi estremamente importanti perché parliamo di diritti in caso di licenziamento, di riduzione della precarietà, di lavoro sicuro. Abbiamo bisogno di dare un segnale anche di una forte valenza politica che non può rimanere soltanto all'interno del mondo del lavoro, ma che deve riguardare, diciamo così, la collettività. Un referendum abrogativo ha bisogno del 50% più uno degli aventi diritto al voto. Quindi uno strumento estremamente in qualche modo coinvolgente, ma allo stesso tempo anche rischioso perché se non si raggiunge il quorum tu puoi avere raccolto centinaia di migliaia di film, mobilitato milioni di persone, ma se non raggiunge il quorum quel referendum muore lì e si conclude lì, quindi senza alcun tipo di effetto. Se non quello appunto di avere, speriamo noi, almeno risvegliato le coscienze su dei temi molto molto delicati, importanti per la vita di tante persone. Chiaro, ovviamente l'obiettivo di arrivare al 50% più uno degli aventi diritto al voto è un obiettivo importante. L'abbiamo sotto gli occhi la disaffezione alle tornate elettorali. purtroppo è una evidenza sulla quale non è che si possa porre dei dubbi, perché purtroppo è così. E allora uno dei motivi principali per cui noi siamo qui questa sera con Roberto Rossini è proprio questo, sensibilizzare, fare comprendere che al di là del fatto che sia stato raggiunto il numero delle firme necessarie per portare questi referendum poi alla, probabilmente, se verranno, devono essere ancora approvati, giusto? Assolutamente. Esatto, devono essere ancora approvati, però l'importante è svegliare le coscienze. Quindi 500.000 persone già hanno firmato per il referendum, ma non ci si vuole fermare qui, Roberto Rossini. No, il nostro obiettivo infatti è arrivare ad avere un milione di firme. Noi adesso il 18 di luglio dovremo portare in costa di Cassazione appunto le firme raccolte a sostegno dei singoli quesiti. Spiego un attimo l'iter per capire a che punto siamo. Assolutamente, è correttissimo. E sostanzialmente quindi abbiamo all'incirca 10 giorni per cercare di arrivare a quell'obiettivo. Abbiamo già superato quota 800.000, ma abbiamo appunto proprio poche settimane per poter arrivare al milione di firme. Il milione è chiaro che è un dato simbolico, perché le 500.000 le abbiamo raggiunte al netto poi della verifica della Corte di Cassazione rispetto alle firme e alla certificazione delle firme raccolte. Poi il referendum al suo iter si andrà a votare da qui a un anno, si andranno a votare i quesiti, nel momento in cui la Corte di Costituzione avrà anche, diciamo, che si sarà espressa anche sulla loro costituzionalità e sulla loro legittimità. Però nel frattempo noi appunto siamo in questa fase, dal 25 aprile abbiamo aperto questa fase di raccolta delle firme e su questi appunto quattro quesiti che dobbiamo in qualche modo portare a compimento. E la raccolta può avvenire in forma normale, quindi cartaccia apponendo una firma su dei moduli che abbiamo noi di raccolto oppure anche in forma online con la firma digitale. Cioè quindi la forma cartacea vuol dire venire in sede della CGL a firmare e forma online invece vuol dire collegarsi e con tutti gli strumenti di certificazione informatica che esistono oggi poter fare questa firma. Sì, assolutamente sì. Noi in tutte le nostre sedi abbiamo, diciamo così, modelli o comunque la possibilità di poter firmare a sostegno dei quattro referendum. Sono quattro firme che chiediamo per ogni lavoratore, cittadino, pensionato, disoccupato che appunto viene nei nostri uffici. Dal punto di vista delle firme online basta andare sul sito della CGL nazionale, c'è un QR code a cui si può collegare tramite il proprio smartphone e se si ha lo speed o la carta di identità elettronica si può appunto apporre le quattro firme con una società appunto che certifica online le firme possiamo in qualche modo avere già il quadro in quel caso proprio concreto già delle firme certificate che vanno direttamente poi al vaglio della Corte di Cassazione. Esatto, quindi l'obiettivo del milione di firme chiaramente è un obiettivo che è importante da raggiungere a livello politico anche per dare proprio una forte, come posso dire, chiamata, una forte connotazione, esatto, forte peso ai quattro quesiti. Io direi di andarli a vedere, li andiamo a vedere uno per uno perché io sono andato a studiarmi un pochino giustamente e mi rendo conto una cosa che, una battuta che avevo detto a Roberto Rossini fuori onda è che leggendoli uno, due, tre, quattro sembra di leggere il, come posso dire, le cose ovvie ma purtroppo ovvio non è e oltretutto anche in un crescendo estremamente emozionale di quello che significa il lavoro. Partiamo dal primo, per esempio. Qui sì, il primo di questi referendum è intitolato lavoro tutelato. Lavoro tutelato che dovrebbe andare proprio a scandagliare cosa significa licenziamento illegittimo e reintegro in caso di licenziamento illegittimo. Sì, sostanzialmente il referendum ha come obiettivo la borgazione proprio del decreto legislativo che è applicato il Job Act, quello del 2015. Il Job Act è una, diciamo così, una normativa che contiene molte cose, tra cui anche l'abrogazione dell'articolo 18, cioè il diritto alla reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, nei confronti di tutti quei lavoratori assunti dopo la sua entrata in vigore, quindi dal 2015 in avanti. Perché questa cosa? Dire la verità, come CGL nel 2016 avevamo già raccolto le firme per un quesito similare che però è stato, diciamo così, cassato dalla Corte Costituzionale proprio al vaglio della sua valutazione sulla legittimità perché nell'abrogare quella normativa, parte di quella normativa e altre, secondo la Corte Costituzionale quel referendum avrebbe steso la tutela dell'articolo 18 anche a coloro che in quel caso non avevano quella tutela, cioè i lavoratori assunti d'azienda con meno di 15 dipendenti. In questo caso per evitare di incappare nella stessa valutazione della Corte Costituzionale chiediamo l'abrogazione dell'intero decreto legislativo, ma perché facciamo questo tipo di ragionamento? Perché nel tempo poi le normative hanno degli effetti che non sono effetti emozionali che, diciamo così, sull'onda della narrazione del governo che fa una norma, ma hanno degli effetti che poi si prolungano nel tempo. E nel tempo cosa ha prodotto questo tipo di norma? Ha prodotto che la tutela della reintegra è sempre più meno, come posso dire, efficace anche per coloro che sono stati assunti prima all'epoca del 2015. Perché nel mentre le persone cambiano lavoro, perdono il lavoro, le aziende chiudono oppure si ridimensionano e chi viene assunto poi dopo una fase o di licenziamento o di cambio di lavoro, eccetera, quel diritto lo perde. Anche se è un lavoratore tutelato, perché la nuova azienda riparte da zero, riparte con la normativa nuova e quindi tu hai creato non solo una distinzione tra coloro che erano stati assunti prima e coloro che erano stati assunti dopo, aggiungendo questa distinzione in termini di tutele, anche quella che c'era precedentemente esistente, cioè se eri dipendente di un'azienda con più o meno di 15 dipendenti, se eri un'azienda ovviamente dell'industria o se dovevi averne più di 50, se eri un'azienda del commercio e dei servizi. A quella distinzione lì oggi aggiungi anche quell'altra per cui io nel mentre avevo quel diritto e ho cambiato lavoro e quindi l'ho riperso e quindi abbiamo anche quel tipo di effetto lì e quel tipo di effetto nel tempo porterà alla scomparsa della tutela forte dell'articolo 18. Io vorrei ricordare che quella tutela lì era una tutela che era legata al fatto che quel tipo di licenziamento lì, quindi quella sentenza che stabiliva che quel licenziamento era illegittimo, ma era illegittimo rispetto a un'azione che veniva considerata da parte del giudice discriminatoria di diritti individuali e, come posso dire, che attenevano alla sfera del singolo, della persona. Discriminazione in termini, che ne so, per ragioni politiche, per ragioni di carattere religioso, per ragioni di carattere sessuale, eccetera. Quindi, diciamo così, erano sentenze che prima del 2015 molto rare, perché nel mondo del lavoro i datori di lavoro stavano attenti da un certo punto di vista ad applicare dei comportamenti che li avrebbero esposti a un rischio di quel tipo e che li avrebbero esposti a un rischio molto semplice, che quel lavoratore rientrava a lavorare con gli stessi diritti e con le retribuzioni che avrebbe dovuto percepire dal momento in cui era stato licenziato. Quindi una tutela forte. Molto spesso quei lavoratori in un ambiente che si comportava così non rientravano neanche a lavorare. Preferivano chiedere una cifra economica di ristorno rispetto a quel tipo di diritto. Quella cosa lì oggi non c'è più e tu, nel momento in cui anche hai una sentenza che in qualche modo condanna quel datore di lavoro a, diciamo così, rifondere quel lavoratore di un danno, si tratta di un danno di carattere esclusivamente economico. E quindi sta di fatto che, diciamo così, quella tutela da tutela forte è diventata una tutela, diciamo così, meno forte, molto meno forte. Questo referendum ha l'obiettivo di togliere quella normativa e di in qualche modo riportare il governo a rilegiferare sul tema, ma tenendo conto del fatto, se dovesse andare bene il referendum, che gli italiani si sono espressi per una chiara, come dire, con una chiara indicazione politica. Quel tipo di tutela è importante, la devi ripristinare in forma diversa magari da quella che era prima, ma in termini più, come posso dire, tutelanti. Certo, attualizzata sicuramente. E soprattutto senza differenziazioni. Esatto, che è fondamentale. Peraltro il discorso molto importante sulle discriminazioni è un discorso che vale per tutto, no? Oggi è veramente l'attenzione quotidiana, la discriminazione non esiste. Cioè siamo davvero un paese, appunto, ci definiamo civile, socialmente avanzato, apparteniamo alla parte del mondo cosiddetta che fa da battistrada, quindi è ovvio che le discriminazioni sono proprio veramente appartengono al Medioevo, me lo faccio a dire, e quindi così è, quindi mi sembra che sia proprio una... Diciamo così che oltre a quel tipo di discriminazioni c'era anche tutto il tema legato al fatto che non erano licenziamenti di carattere, come posso dire, motivati da ragioni di carattere economico. Se un'azienda è in crisi, è in crisi. Certo. Qui si tratta di licenziamenti che avevano un carattere più della sfera soggettiva, più che della sfera oggettiva e quindi legata all'andamento economico dell'azienda, eccetera, eccetera. Quindi distinguiamo anche rispetto alla tutela e alla discriminazione. Giustissimo, perché d'altronde quando si parla di licenziamento illegittimo vuol dire che è un licenziamento che non aveva ragione d'essere e invece è stato fatto, effettuato per un qualche motivo che appartiene sicuramente a una sfera che molto probabilmente, anzi nel 99% dei casi, non rientra nell'oggetto del lavoro. Il secondo referendum è intitolato in maniera molto breve lavoro dignitoso e questo va praticamente a rinforzare il primo, perché qui entrano in gioco anche le piccole imprese, perché il licenziamento illegittimo in realtà riguarda anche le piccole imprese, quindi quella con meno di 15 dipendenti. Sì, il tema è proprio legato nel senso che ovviamente nel mondo del lavoro quindi si sono create ancora più differenziazioni. Quando parlo di differenziazioni, perché poi le differenziazioni ci stanno se si parte da situazioni e da condizioni diverse, ma qui stiamo parlando della stessa medesima condizione, cioè il licenziamento illegittimo ed è illegittimo sia se tu lavori in un'azienda che ha più o meno di 15 dipendenti. La differenza e soprattutto lo spirito di questo quesito è quello di andare a togliere il tetto, previsto per legge, che prevede che in caso di licenziamento illegittimo che avviene in un'azienda che ha fino a 16 dipendenti, il lavoratore che viene licenziato ha diritto ad avere una, diciamo così, non aveva diritto alla reintegra, ma aveva diritto ad avere un risarcimento economico. Con un tetto però, il tetto è fissato alle sei mensilità, mentre invece se sei un dipendente di un'azienda che ha più di quei dipendenti lì, il tetto sale, può andare oltre le sei mensilità. Abrogando questa normativa noi portiamo a parità il trattamento di un lavoratore, non perché quel lavoratore sia assunto o meno da un'azienda che ha più o meno di 15 dipendenti, ma perché ha subito il licenziamento illegittimo. E siamo convinti che questo referendum abbia, diciamo così, verrà accolto alla Corte Costituzionale perché ci sono già delle sentenze della Corte Costituzionale che dicono ai giudici che bisogna prendere in considerazione non tanto il numero di dipendenti dell'azienda, ma la condizione economica dell'azienda. Se un'azienda è florida, non c'è un motivo per cui bisogna riementarsi alle sei mensilità? Infatti io, molto ingenuamente, da non sindacalista ovviamente conosco un po' i temi, ci provo a entrare dentro, ma la mia domanda è perché hanno fatto questa? Mi viene da dire, c'è perché differenziare un'azienda da un'azienda piccola, meno di 15, 16? Perché il legislatore all'epoca, qui si sta parlando di norme precedenti anche al Job Act, ragionava rispetto a una normativa che era presente ed era esistente e si prendeva atto del fatto che aziende di piccole, piccolissime dimensioni, che sono la stragrande maggioranza in questo paese, hanno oggettive difficoltà e soprattutto anche oggettive, come posso dire, economie diverse, necessità anche di in qualche modo avere all'epoca un concetto di flessibilizzazione del lavoro, nel caso soprattutto, in questo caso, anche di in qualche modo di gestione della crisi di azienda, oppure anche nella gestione del rapporto con il lavoratore. Nelle piccole aziende il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, soprattutto in aziende artigiane, molto familiare, in alcuni casi, in altri casi no, però sto facendo un ragionamento rispetto a un mondo del passato che era sopportato da normative che leggevano quel mondo, nel mentre le normative sono cambiate e quel mondo lì, che in parte è rimasto, ma in parte si è evoluto, oggi non è più, come dire, coerente con le normative che abbiamo, dovremmo appunto fare in modo che quelle normative guardino al mondo per come oggi è e non per come era e soprattutto quando tu vai a modificare delle norme, devi prendere in considerazione la totalità del mondo del lavoro, non solo una parte, come invece si è sempre in qualche modo agito nel corso degli anni, degli ultimi trent'anni come minimo in questo paese, creando appunto questi effetti distorsivi. Sì, perché proprio sono effetti distorsivi, è proprio molto chiaro. Poi non è soltanto una questione di se l'azienda è florida o meno, ma anche la questione di come è avvenuto il licenziamento, le motivazioni per cui è avvenuto il licenziamento. La norma, non dice altro, abrogando quella norma lì, riporta al giudice la discrezionalità ovviamente del giudice di decidere lui quante mensilità riconoscere a quel lavoratore nel momento in cui è stato licenziato ingiustamente, nel caso concreto, perché non tutti vengono licenziati nella stessa medesima cosa, nelle stesse medesime condizioni, con le stesse medesime aziende. Quindi ridare al giudice quella possibilità probabilmente crea un equilibrio, un'equità che in questo momento la norma non ti permette di avere. Terzo referendum, sempre in questo crescendo rossiniano che ho definito dall'inizio dei diritti del lavoratore, lavoro stabile. Cioè si è entrato proprio anche nel merito di regolamentare in maniera evidentemente un po' così avventurosa il lavoro a termine e quindi i contratti a termine. Questo è un referendum che guarda alle condizioni attuali di chi, diciamo così, viene assunto nel mondo del lavoro. Se noi andiamo a guardare i dati, purtroppo anche nella nostra provincia, la maggior parte delle assunzioni che vengono ogni anno è a termine. a tempo determinato oppure a tutte, diciamo così, con contratti, diciamo così, di varia natura ma che comunque hanno una durata temporanea. In questo caso noi agiamo rispetto proprio ai contratti a termine, ai tempi determinati e la normativa attuale che è stata introdotta da questo governo ha ripristinato la non necessità che invece era prevista nella vecchia normativa, di indicare le motivazioni per le quali un'azienda si assume un lavoratore per 12 mesi o comunque fino a 12 mesi, deve dire perché lo assume a tempo determinato piuttosto che invece assumerlo a tempo indeterminato. Motivare la scelta. Il cosiddetto causalone si chiamava così. Deve motivare una scelta. Deve motivare la scelta. da una normativa fatta da questo governo di un primo di maggio di due anni fa, fondamentalmente, ha tolto quell'obbligo da parte delle aziende, liberando ancora di più... Un primo di maggio che mi pare fu anche festeggiato, se non mi ricordo male. Da loro, da noi di sicuro, ma in forma, come dire, classica. Allora invece l'hanno festeggiato come se fosse una liberazione. Ecco, me la ricordo. In realtà l'effetto è stato esattamente il contrario, quello di aver riaumentato ancora di più la precarietà, l'utilizzo di questi strumenti in maniera molto più, come dire, elastica, di cui non se ne sentiva neanche il bisogno, perché non è che il numero di contratti a tempo determinato che c'erano prima erano così bassi, tutt'altro. E francamente di, come posso dire, credo che sia anche un diritto, un dovere, da parte di un'azienda, in qualche modo, di dire a quel lavoratore il perché lo assume a tempo determinato oppure no. Motivarla. Certo. Non ci trovo nulla di strano, mi permetta. Dopodiché il tema, appunto, con questo referendum, che è un referendum, ripadisco, che guarda al dire, siete d'accordo che bisogna in qualche modo dire alle aziende, oh, poni un freno rispetto all'utilizzo di questa cosa. Non è che noi con questo referendum andiamo a dire che non si faranno più tempi determinati. Diciamo semplicemente, nell'utilizzo di questo strumento, cercate di essere più, come posso dire, più trasparenti, più trasparenti, più in qualche modo normativamente, diciamo così, legati, diciamo, a una motivazione che deve essere oggettiva, non deve essere libera. Esatto, perché in questo modo ovviamente poi sappiamo benissimo che ci sono realtà che, tra virgolette, ci vivono, ci marciano, no? Assolutamente. Quindi tutta è una... Ultimo referendum, che forse a termini di definizione è quello che veramente sta a cuore a tutti noi, anche a chi quotidianamente guarda quello che avviene nelle cronache con cause, incidenti, morti sul lavoro. L'ultimo referendum è lavoro sicuro, quindi una responsabilità precisa del datore di lavoro, non solo quando lo è coinvolto in maniera diretta, ma anche quando lo è coinvolto in maniera indiretta, quindi con appalti, subappalti. Noi con questo referendum, che è un referendum che dal punto di vista della simbolicità è estremamente importante, ma non solo della simbolicità, ma anche dei contenuti. Ovviamente andiamo a guardare a che cosa? Al tema salute e sicurezza nel mondo del lavoro. Ovviamente non puoi, non abbiamo la velleità, saremo stupidi, di pensare che tu vai a, in qualche modo, eliminare la piaga delle morti, degli infortuni, delle malattie professionali nel lavoro con un referendum. Però è un passo. Però è un passo importante perché in questo momento, con quel referendum, noi andiamo a dire che eliminiamo la normativa che in questo momento esclude il committente, cioè chi dà in appalto un servizio, un'opera, dalla responsabilità rispetto al danno provocato da un infortunio, da una malattia professionale, da un lavoratore dipendente di un'azienda a cui lui ha dato l'appalto. E come dire, in questo momento il committente è libero, non ha la responsabilità, che sarebbe una responsabilità solidale, quindi si aggiunge, non è che ce l'ha soltanto lui, ma si aggiunge rispetto al datore di lavoro che ha assunto quel lavoratore, rispetto a quell'appalto che lui gli ha dato, rispetto a che cosa? Al danno arrecato, quindi alla possibilità da parte del lavoratore che l'ha subito di ricevere una quantità economica che va a rifondere quel danno, che va oltre il cosiddetto danno differenziale, cioè quello che viene riconosciuto da parte degli istituti di assistenza, l'INAIL fondamentalmente, o l'IMSS, rispetto a quel tipo di danno fisico che hai subito. Il datore di lavoro in questo momento risponde, non risponde nella catena degli appalti, colui che ha dato l'appalto a quel datore di lavoro. E' anche un modo per responsabilizzare la società, la ditta, il soggetto che dà in appalto i lavori che guadagna in appalto un servizio. Qui praticamente è un aumento della responsabilità di chi, in poche parole, ne è responsabile. Assolutamente sì. Mi sono espresso in maniera molto... E dai la possibilità a quel lavoratore che subisce quel danno di avere anche un soggetto ulteriore, a cui far riferimento, a cui chiedere appunto che venga rifuso quel danno in aggiunta, ripeto, non il danno che comunque avrebbe nel momento in cui gli viene riconosciuto il fortunio, il danno che ha subito, ma in aggiunta a quello che appunto è il danno differenziale che appunto riconosce, riconoscono gli enti di tutela. Ha detto poco fa che non abbiamo la pretesa di risolvere il problema, ma certamente... Non con il referendum, avremo la pretesa di risolverlo però. Esatto, ma probabilmente, no, ovviamente, ma ci tenevo a dire che i problemi, tutti i problemi si risolvono mattoncino su mattoncino, non è che ci si sveglia la mattina, no, tutto si risolve. Non esistono i maghi e non esistono gli stregoni. Quindi esiste invece una politica, esiste una cultura, esiste la possibilità di costruire, di fare un percorso e piano piano, perché secondo me, se di questi infortuni ce ne fosse anche uno solo in meno al giorno, rispetto alle decine che purtroppo ci sono, già sarebbe un passo e questi piccoli passi poi porterebbero a un risultato che probabilmente negli anni ci farebbe vedere una situazione diversa rispetto ad oggi. A proposito dell'oggi, poi ci torneremo sui referendum, ci sono state le elezioni sia a livello locale, quindi nuovi amministratori, nuovi sindaci, in certi casi sì, in certi casi no, in certi casi sono state confermate comunque le coalizioni che già precedentemente governavano. Qual è il sentito del sindacato su questa tornata elettorale della CGL? Poi magari lo vediamo anche un po' a livello nazionale brevemente, proprio per avere delle indicazioni in più. Cosa vi sentireste di chiedere a chi si prepara ad amministrare, per esempio, la città di Pesaro o le altre realtà locali della nostra provincia? Beh, intanto di avere un atteggiamento rispetto al mondo delle organizzazioni sindacali, confederali, diciamo così, di reciproco rispetto e di riconoscimento di ruoli previsti dalla Costituzione, ma anche dal fatto che siamo organizzazioni, in questo caso parlo al plurale perché mi riferisco a tutte le organizzazioni sindacali, confederali, abbiamo anche un ruolo di, come posso dire, di soggetto di rappresentanza collettiva, che non è una lobby, ma è una cosa molto più grande. Noi abbiamo la, diciamo così, il vezzo, il vezzo, non è un vezzo, il nostro obiettivo da sempre... Lo dico perché la cultura sindacale di questi ultimi 30 anni è molto scarsa a livello di politica, ma anche a livello di conoscenza nell'opinione pubblica. C'è una bella differenza da essere sindacato generale e quindi che si propone di, in qualche modo, non guardare soltanto a un pezzettino del mondo del lavoro, ma guardare, diciamo così, al lavoro inteso come elemento della collettività centrale di tutti noi per sviluppare, come dice la Costituzione, anche, in qualche modo, e migliorare la condizione di tutti e della comunità italiana, cioè della Repubblica, in qualche modo. Ma per il resto noi chiediamo, oltre appunto a questo riconoscimento, che si deve sostanziare nella possibilità e nella capacità degli amministratori di confrontarsi sui temi che noi, in qualche modo, vorremmo portare all'attenzione delle singole amministrazioni, come abbiamo sempre fatto in passato e vorremmo continuare a fare, temi prevalentemente che guardano gli aspetti di carattere sociale, di tutela e di sostegno alle fasce della popolazione più debole. E quando dico più debole non mi riferisco soltanto dal punto di vista reddituale, ma anche dal punto di vista della povertà, che non riguarda soltanto la condizione economica, ma riguarda la condizione familiare, sociale, personale, sanitaria, che si sommano poi... Siccome viviamo nella provincia che tutto sommato ha questi tipi di situazioni, ci sono, sono molto meno visibili di altre province, ma ci sono, ve lo assicuro, però diciamo così, non abbiamo condizioni marcatamente evidenti come succede in alcune parti di questo paese, in alcune grandi città di questo paese. Però malgrado questo, noi in questi anni abbiamo sviluppato con le amministrazioni della nostra provincia, una buona parte anche degli ottimi accordi di contrattazione sociale e territoriale. Ma oltre a quello ci sono tematiche molto importanti, ne cito alcune, la casa, il tema della casa, gli affitti, il tema legato a... Si viene riportato dalle cronache sempre in maniera distorta, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Una rappresentante dice una parola, viene immediatamente strumentalizzata da tutti, come? Ma purtroppo il tema in realtà esiste. Diciamo che l'utilizzo strumentale delle dichiarazioni... Esatto. ...ne so qualcosa. Esatto, proprio perché purtroppo è così. No, parlavo della casa intesa sia per le giovani coppie, ma non solo, il problema di trovare appartamenti in affitto per chi non può permettersi un appartamento, il tema dell'accesso ai mutui, il tema del costo della casa. C'è tutto il tema legato ai modelli di sviluppo di questa provincia. Il modello che abbiamo fatto a distretto multicomparto, che tipo di prospettive ha, quali sono i comparti che bisognerebbe in qualche modo aiutare, incentivare e emergere, che tipo di visione, perché gli amministratori non si devono soltanto limitare, a mio parere, ad amministrare il loro territorio, ma dovrebbero avere una visione collettiva, molto più politica, molto più alta, che guardi in qualche modo il futuro. E anche molto, esatto. E che abbia la capacità di tenere al tavolo e di discutere con le parti ovviamente sindacali che tutelano e comunque rappresentano il mondo del lavoro, ma dall'altra anche con chi appunto rappresenta il mondo delle imprese. E quindi tenere al tavolo e discutere insieme di quali sono le prospettive, credo che sia un tema estremamente importante. Altro tema è tutto anche il modello di sviluppo che ti dai, la sostenibilità, il tema della energia. Abbiamo visto che cosa vuol dire un cambio del costo dell'energia rispetto a quello che è l'effetto sul potere d'acquisto. Ci siamo passati amaramente tutti. Non ci ricordavamo negli ultimi vent'anni un effetto di questo tipo rispetto all'inflazione. Non ci ricordavamo più neanche cosa fosse l'inflazione per un lungo periodo di tempo. Peraltro un effetto che appunto non dipende da noi, ma capita una cosa in una parte del mondo immediatamente la ripercussione, quella che abbiamo visto dopo l'inizio della guerra. Assolutamente. E quindi diciamo così. E anche altro aspetto c'è tutto il tema sanitario, perché non è vero che poi gli amministratori locali non possono dire la loro, non possono svolgere un ruolo estremamente importante, anche sul tema del bisogno sanitario, dei servizi sanitari, della carenza anche della disorganizzazione che purtroppo questa regione da qualche anno sta portando avanti nel suo tentativo di portare avanti riforme che senza rendersi conto di cosa vuol dire riformare un modello organizzativo sanitario che soprattutto nella nostra provincia con la chiusura del Marche Nord e il tentativo di omogenizzare due cose che non erano così facili da omogenizzare. Mi riferisco alla vecchia aria vasta, alla vecchia azienda ospedaliera, stiamo vivendo sulla nostra pelle senza parlare delle liste d'attesa, senza parlare del tema della sanità privata che si sta sempre più in qualche modo sostituendo la sanità alla sanità pubblica. Questo è un tema enorme che dovrebbe essere in qualche modo affrontato. C'è il tema della salute mentale in questa provincia, in questa città. Soprattutto adesso che poi ci sarà una situazione difficile. Con la situazione dello spostamento appunto di quei servizi perché si deve costruire un ospedale. Il tema è molto importante e qui stiamo parlando di soggetti estremamente fragili, famiglie estremamente fragili, di cui fino adesso ci si è occupato poco e male perché si sono fatti passare due anni, due anni, senza trovare soluzioni a un ricollocamento di quel tipo di servizi, di quel tipo di strutture che stia dentro la città e non sia messo fuori dalle mura della città in un luogo di istituzionalizzazione perché altrimenti anche lì noi torniamo indietro di decenni rispetto al tema. E che ricordiamoci, perché è essenziale, per le famiglie che vivono questo tipo di problema dalla mattina alla sera per tutta la vita, è vita, è essenziale, bisogna assolutamente pensare. Assolutamente. Rossini arriviamo verso la fine, che siamo andati lunghi ma la chiacchierata è talmente interessante che effettivamente i temi sono tanti. Volevo chiudere con, l'ha detto prima, proprio molto velocemente, le decisioni poi si ripercuotono nel tempo. Assolutamente. E oggi per esempio siamo di fronte a due decisioni a livello nazionale che riguardano l'autonomia differenziata e anche il premierato che magari sono prese oggi, cominceranno i loro iter, abbiamo visto per esempio l'autonomia differenziata, molti giornali fanno una specie di gioco dell'occo, a che punto siamo, cosa succederà, quando arriverà, eccetera, eccetera. Cosa significa? Credo che anche qui la CGL voglia intervenire, vero? Perché mi accennava prima, c'è la volontà di fare le repubbliche. Noi ci siamo già espressi, abbiamo già detto che quel tipo di proposta di legge che era già al vaglio del Parlamento da tempo, noi eravamo assolutamente contrari perché introduce una distorsione ancora maggiore rispetto alla comunità della Repubblica, nel senso che qui andremo ad avere veramente dei sistemi differenziati tra regioni ricche e regioni povere e con effetti veramente distorsivi rispetto alla tutela, rispetto al medesimo diritto. Se siamo cittadini della Repubblica, su determinati diritti, soprattutto determinati diritti fondamentali, scuola, sanità e quant'altro, abbiamo assolutamente la necessità invece di portare a sintesi, non di andare a ulteriori differenziazioni. Su quello noi ci siamo già espressi, abbiamo anche lavorato insieme a tante associazioni di questo paese, abbiamo costituito un'aggregazione di associazioni dentro la quale c'è anche la CGL che si chiama la Via Maestra, che già è una prima base di soggetti che vuole in qualche modo abrogare quella normativa. Appena verrà pubblicata in gazzetta ufficiale partirà una raccolta anche lì referendaria che però si deve concludere velocemente perché le modalità con cui si raccolgono le firme per un referendum devono essere fatte entro il settembre di ogni anno, altrimenti quel referendum potrebbe essere fatto non nel 2025 ma nel 2026 e quindi dobbiamo raccogliere 500.000 firme da metà luglio al 30 di settembre ed è un'impresa veramente complessa. Però ce l'avete fatto sul lavoro. Sì ma avevamo tre mesi, di cui vabbè reali e concreti sono appena due. In questo caso tu hai un mese e mezzo e di concreto e reale probabilmente ne avrai uno e quindi diciamo così che l'impresa è importante. Io immagino che ci saranno anche tanti altri soggetti che si aggiungeranno a quelli però sarà un tema, sarà un'impresa anche quella. Così come anche il premierato. Quello è un elemento in più nel momento in cui dovesse andare in porto anche la riforma costituzionale che introduce il premierato. In quel caso siccome a differenza dell'autonomia differenziata è con le leggi ordinarie quindi per essere abrogata deve essere in qualche modo sottoposta a referendum abrogativo. Nel caso del referendum costituzionale sapete che non abbiamo nel quorum e c'è anche un meccanismo differente. Puoi raccogliere le firme ma puoi anche non raccogliere se un numero qualificato di parlamentari eletti o un numero di regioni qualificato in qualche modo chiede di andare al referendum. In quel caso oltretutto non c'è neppure il quorum. Ma è chiaro che quegli elementi stanno insieme. Lì c'è una visione di paese e una visione delle istituzioni che la mia organizzazione, parlo ovviamente per la CGL, non solo non ama e non vuole ma che fino alla fine cercherà di non far passare perché, ripeto, le decisioni che assumiamo oggi poi avranno una ripercussione per lungo tempo nel futuro. Noi non ce ne rendiamo conto ma purtroppo è così. Oggi si discute di tante cose e magari passa una legge che queste sono eclatanti ma tante volte passano delle leggi delle quali neanche ci accorgiamo ma che hanno delle conseguenze fondamentali sulla vita di tutti noi. In conclusione, torniamo sui quattro referendum, li rielenco. Lavoro tutelato, lavoro dignitoso, lavoro stabile, lavoro sicuro. Come poter aderire, come poter dare un ulteriore proprio rafforzamento alla volontà di raggiungere un risultato così importante per i diritti dei lavoratori. Allora, intanto venendola nelle nostre sedi e chiedendo di poter sottoscrivere i quattro quesiti referendari. In ogni nostra sede è presente qualcuno che ha una scheda, che ha delle schede, c'è un certificatore ovviamente che in qualche modo raccoglie appunto le firme. In alternativa, è molto più veloce, molto più rapido, si può fare da casa. basta andare sul sito della CGL nazionale, cercare referendum, firma online, si va, appare un QR code, con il proprio cellulare si va in qualche modo a, diciamo così, interagire con il QR code, si apre tutta una serie di indicazioni, avendo lo speed o avendo una carta di identità elettronica, si segue il percorso che viene indicato dall'applicazione e quel caso lì le quattro firme sono automaticamente certificate e in due minuti, stando comodamente seduti a casa, si può fare. Perfetto, quindi obiettivo un milione di firme, Roberto Rossini, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti gli interi spettatori. Grazie, è stato davvero molto molto coinvolgente e molto interessante. Speriamo di tornare su questi temi, di riapprofondirli, perché davvero ne vale la pena, è molto importante fare chiarezza sulle cose che succedono nella nostra vita. Grazie Roberto Rossini. Grazie a voi per averci seguito fino ad adesso, continuate a restare sul Canale 80, i nostri programmi vanno avanti anche nella serata, ci vediamo presto. Buona serata ancora a tutti voi.